Bella a tutti ragazzi con Orgasmic e sono qui con un nuovo video di Se Fossero su FIFA Abbiamo tre giocatori che mi sono stati molto richiesti da voi, soprattutto i giocatori, anzi uno di questi mi è stato richiesto tantissimo, l'altro l'ho voluto fare io perché se ne sta parlando molto ultimamente e poi vabbè la leggenda è una leggenda grandiosa Comunque partiamo subito con lasciare un bel like, se riusciamo ad arrivare a 300 mi piace uscirà un nuovo video e come sempre scrivetemi nei commenti quali giocatori sia normali, che leggende volete che io farò in futuro che vi porterò nel prossimo video Comunque partiamo subito con il primo giocatore, conoscenza diciamo così tra virgolette del campionato italiano cioè stiamo parlando di Gnukuri o Gnukuri non so bene come si pronuncia comunque giocatore ivoriano dell'Inter che gioca più che altro nella primavera dell'Inter ma ha disputato anche 5 partite in Serie A mi ricordo per esempio la partita con il derby se non sbaglio è partito proprio titolare e mi è perso davvero un buon giocatore queste sono le sue statistiche, sono le statistiche che ho preso da Sofifa e non mi sembrano altissime però considerando che è un giocatore che ha 18 anni e che è un 96 ci stanno tutta la vita e si vedrà sicuramente in futuro quali saranno le sue statistiche comunque lui ha fatto un gol in 16 partite con la primavera dell'Inter quindi abbastanza buono considerando che comunque lui può giocare da mediano e il suo ruolo naturale è il centrale di centrocampo quindi niente passiamo al secondo giocatore di oggi giocatore secondo me molto importante se ne sta parlando tanto ultimamente cioè Gabigol ovvero Gabriel del Santos attaccante anche esso molto molto giovane ha la stessa età forse di Gnucuri se non sbaglio sia un 96 quindi 18 anni è un giocatore sulla bocca praticamente di tutti molti lo considerano il nuovo Neymar l'hanno già chiamato così, l'hanno già definito il nuovo Neymar io a dire la verità non l'ho visto tantissimo questo giocatore ho visto chiaramente solo qualche video su YouTube però mi è parso davvero un giocatore molto talentuoso che quest'anno ha fatto in 31 partite 8 gol e 4 assist non male per appunto un giocatore di 18 anni che gioca nel Santos e si è parlato molto di questo giocatore per il Milan perché come sappiamo nel Santos gioca a Robinho che è ancora del Milan e si poteva pensare a una sorta di scambio o qualcosa del genere comunque i due giocatori sono molto legati e questo Gabigol come chiamato è molto legato al Milan e quindi si vedrà se, io lo spero perché essendo milanista e non avendo tantissimi talenti in squadra in rosa potrebbe darci una mano in più comunque si vedrà ovviamente poi in futuro quali saranno le sue statistiche ma invece parliamo della leggenda di oggi una leggenda che a me sta molto a cuore e cioè di Alessandro Sandrone Nesta che non potevo non trattare perché essendo milanista come ho detto prima Nesta è sempre nel mio cuore perché è sempre stato uno dei migliori centrali di sempre non solo del Milan Nesta come potete vedere ha questa carta qui secondo me devastante avrebbe secondo me questa carta qui e spero che lo inseriranno in futuro perché questo è un giocatore che merita tutta la vita un giocatore leggendario che ha giocato comunque fino a poco fa nel Montreal Impact se non sbaglio lì in MLS giocava in Canada e lui nella sua carriera ha vinto due Champions League ha vinto un mondiale ha vinto una coppa intercontinentale ha vinto il mondiale per club comunque si ha tre scudetti se non sbaglio quindi tanta roba per Sandrone Nesta spero che uscirà questa carta in futuro su FIFA 16 anche se come dico sempre non ho l'Xbox quindi non ci posso fare niente però dovrebbe uscire perché penso che se lo meriti per tutto quello che ha fatto per quello che ha vinto comunque raga come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace spero che questo video appunto vi sia piaciuto 300 mi piace uscirà un nuovo video come sempre scrivetemi nei commenti quali sono i giocatori che vorreste che io tratti nei prossimi video soprattutto giocatori normali e anche le leggende ovviamente iscrivetevi al mio canale pagina Facebook, Twitter, Instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga ciao ciao